Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it. Continua il corso introduttivo ad After Effects. Parliamo oggi di quattro proprietà molto importanti per un livello After Effects, ovvero le proprietà trasformazione, posizione, rotazione, scala e opacità. Nel prossimo tutorial vedremo anche il punto di ancoraggio, argomento molto importante ovviamente che però merita una lezione a parte. Ricordo www.fabioambrosi.it, sito dove troverete gli articoli di questi tutorial, oltre chiaramente all'indice degli argomenti che affronteremo. Iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere anche i prossimi video e cercatemi su Facebook, la pagina da cliccare è FabioAmbrosi. Cercate la pagina e venite a trovarmi, lì daremo tutte le novità a mano a mano che ci saranno. Ma veniamo subito ad After Effects, parliamo delle proprietà trasformazione. Proprietà che troverete in qualsiasi livello After Effects, sia che voi stiate lavorando con una immagine, sia che voi stiate lavorando con un video, con un testo, con una luce, qualunque livello After Effects ha le proprietà trasformazione. Vediamo di cosa si tratta. Importiamo del materiale nel nostro progetto, creiamo una composizione, guardate i tutorial precedenti per capire come fare questi semplici passaggi e cominciamo, prendiamo un'immagine qualsiasi e portiamola nel nostro pannello dei livelli. Ecco la nostra immagine importata nel pannello dei livelli. Come abbiamo detto nello scorso tutorial, qualunque livello chiaramente ha un nome. Noi possiamo scegliere di rinominare il pannello scegliendo dal menu tasto destro la voce rinomina. Scegliamo di nominarlo per esempio immagine 1. Eccolo qui. Non fate doppio clic sul livello, ve lo dico subito, altrimenti aprite l'editing dell'immagine, ma ne parleremo magari in un altro tutorial. Limitatevi a fare tasto destro e poi rinomina per rinominare il livello. A fianco all'etichetta del livello, etichetta in cui potete scegliere di attribuire un colore personalizzato per il vostro livello, abbiamo una linguettina. Noi clicchiamo su questa linguettina e possiamo espandere, chiaramente, le varie proprietà caratteristiche del livello selezionato. Bene, qualunque livello, a prescindere dal tipo di livello, ha delle proprietà chiamate trasformazione. Espandiamo ancora queste proprietà e troviamo altre proprietà, le sub proprietà, con dei valori associati. Sono proprietà, punto di ancoraggio, posizione, scala, rotazione e opacità. Tralasciamo per il momento il punto di ancoraggio, perché ne parleremo nel prossimo video tutorial. Concentriamoci sulla posizione, scala, rotazione e opacità. È abbastanza intuitivo cosa fanno questi valori. I valori associati alla proprietà posizione gestiscono la posizione del nostro livello. La rotazione, o meglio, la scala gestisce la scala, ovvero quanto deve essere grande l'immagine o l'oggetto contenuto nel nostro livello. La rotazione gestisce la rotazione e l'opacità gestisce l'opacità. Vediamoli al volo uno ad uno. Dunque, ogni livello ha dei valori. Per modificare questi valori potete cliccare con il tasto sinistro del mouse e scegliere un valore custom, oppure potete cliccare sul valore tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, tenendo premuto, trascinate verso destra per aumentare il valore o verso sinistra per diminuire il valore. Vedete che il valore X della proprietà posizione modifica la posizione del livello in orizzontale. La proprietà Y gestisce la posizione del nostro livello in verticale. Per quanto riguarda la scala, ovviamente abbiamo la scala in orizzontale e in verticale e se c'è questo link attivo, cliccando su uno dei due livelli, tenendo premuto, modifichiamo ovviamente anche l'altro livello. Ma se vogliamo modificare solo la scala X, per esempio, di questo livello, basta spegnere questo bottoncino che simboleggia appunto il link tra il valore X e il valore Y e possiamo scegliere di modificare, vedete, la scala o in orizzontale o in verticale del nostro livello. Noi per comodità manteniamo il link attivo. La rotazione ovviamente è molto semplice, ci indica di quanti gradi viene rotato un oggetto. Anche qua, clic con il tasto sinistro del mouse, trascino per aumentare o verso destra, per aumentare o trascino verso sinistra per diminuire il valore, posso dare un valore custom. Vediamo che ruotando l'oggetto di 90 gradi, praticamente lo capovolgiamo di 90 gradi. 180 gradi è veramente un livello sottosopra. Andiamo ancora avanti, 270 gradi. Abbiamo quasi fatto un giro completo. 360 gradi non è altro che un giro completo. Guardate il primo valore, 1, ci indica che questo oggetto ha ruotato di 360 gradi, ha fatto una rotazione completa. Modificare questo valore apparentemente non porta risultati, ma vedremo che questo primo valore è molto importante quando andremo ad animare la rotazione, ma avremo modo di riparlarne più avanti. L'opacità ci indica invece quanto questo oggetto è trasparente oppure opaco. Un'opacità al 100% vuol dire che questo è un oggetto completamente opaco e non ci lascia intravedere cosa c'è sotto di lui. Se io vado a portare un'altra immagine all'interno di questo progetto, lo porto in basso. Ricordo che in After Effects, come in Premiere, i livelli che sono sopra coprono i livelli che stanno sotto. In questo caso il livello che è sopra ha un'opacità al 100% e mi copre il livello che è sottostante. Ma se io abbasso l'opacità, per esempio, e la porto al 50%, vedete che il livello è presente con un'opacità al 50%. Quindi posso intravedere quello che c'è sotto. L'opacità allo 0% chiaramente rende il livello completamente trasparente. Un'opacità al 75%, lo rende opaco al 75% e vediamo che possiamo intravedere quello che c'è al suo interno. Possiamo modificare alcuni valori della proprietà trasformazione anche direttamente qui nel monitor di anteprima. Selezioniamo per esempio la posizione, clicchiamo con il tasto sinistro del mouse e possiamo posizionare come vogliamo questo nostro livello. Abbiamo anche delle maniglie ai lati per poterle scalare in verticale o in orizzontale questo nostro livello, a prescindere dal fatto che questo bottoncino sia acceso spento. Quindi state molto attenti quando lavorate con le maniglie qui direttamente sul monitor di anteprima. Se tenete premuto il tasto shift, modificate la scala sia in orizzontale che in verticale. È tutto per quanto riguarda questa lezione. È molto importante capire e giocare con queste proprietà, proprietà trasformazione, perché quando impareremo ad animare i livelli è qui che giocheremo tantissimo per creare delle semplici animazioni. Non abbiamo parlato del punto di ancoraggio. Il punto di ancoraggio è un concetto molto importante che però merita un intero tutorial. Quindi ne parleremo nel prossimo video. www.fabioambrosi.it Troverete lì l'articolo di questa lezione. Oltre all'indice con tutti gli argomenti di questo corso e anche altri corsi, in particolare il corso introduttivo ad Adobe Premiere, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere anche i prossimi video tutorial. e cercatemi su Facebook. La pagina da cercare e da cliccare è Fabio Ambrosi. Grazie ancora al prossimo video tutorial. Piano piano entriamo nel vivo di After Effects. Tra qualche lezione inizieremo a fare qualche esercizietto molto interessante. Per il momento esercitatevi con questi valori, perché sono molto 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 importanti. È molto importante saperli utilizzare e saperli modificare. Grazie ancora. Al prossimo video. Ciao!